Terminati in anticipo i lavori alla condotta idrica che alimenta la penisola sorrentina e Capri. Dopo il guasto dello scorso 20 giugno che lasciò senza acqua l'isola azzurra, sono iniziati martedì 30 luglio i lavori per garantire sicurezza e continuità nel servizio idrico. Dopo solo i 24 ore l'acqua è gradualmente tornata nelle diverse località interessate dal guasto, i lavori sono stati affidati a Lagori che ha lavorato senza sosta durante tutta la notte sostituendo 50 metri di condotta. Per gli interventi sono state impiegate circa 130 risorse, 60 in cantiere, 30 in sala controllo e 40 sulle reti e sugli impianti per la regolazione dei flussi e l'assistenza ai punti di approvvigionamento idrico. Cautela e precisione sono state indispensabili per effettuare tutte le attività a circa 30 metri da terra lungo il viadotto della strada statale 145. Considerevole è stato anche l'impiego dei mezzi con due gru da 200 tonnellate, cinque piattaforme mobile e una piattaforma aerea. Sul territorio inoltre sono stati installati 27 punti di approvvigionamento tra serbatoi mobili, autobotti e fontanine e resa disponibile una nave cisterna pronta a salpare per capri per eventuali emergenze improvvise. L'amministratore delegato di Gori, Vittorio Cuciniello, ha ringraziato tutti i lavoratori oltre agli enti che hanno collaborato, quali il prefetto di Napoli, l'ente idrico campano, i sindaci della penisola sorrentina e dell'isola di Capri, infine la procura della Repubblica del Tribunale di Torre Annunziata per la rapidità nell'autorizzare l'intervento.